buonasera a tutti avevo promesso di fare una avevo promesso veramente di fare un video riguardo la purificazione ok però dopo tanti hanno scritto che comunque volevano delle domande volevo fare delle domande e ovviamente nel video è impossibile perché dopo io ai commenti a ritornare come sono vivo di fretta non ho mai tempo di ritornare buonasera invece quando siamo in diretta ho più possibilità di vedere i vostri domande commenti che così posso rispondere io mi trovo adesso qua al bosco vicino dietro casa mia che sono uscita infatti per questo periodo per fare la diretta buonasera che io ho questa meraviglia dietro casa che abbiamo i cigni abbiamo abbiamo molto verde qua infatti vedete com'è tutto coperto e veramente io sceglievo una casa del genere perché con il mio lavoro con il mio mestiere e avrei bisogno tanto di stare su questi posti perché sennò diventerei insomma esaurita senza energie perché lavorando con la gente ovviamente tu hai bisogno sempre di essere ricaricata anche una semplice passeggiata a volte può solamente di venire qua e stare in silenzio dieci minuti nella lingua moderna si chiama meditazione comunque riguardo le purificazioni amici io ho deciso di fare questa diretta questo video perché vedo che la gente è confusa confusa perché confondono ovviamente tanta informazione che gira alla gente riguardo tutte quelle cose sui social e i maghi che vi propongono i servizi che mannaggia che invece che non solo che non aiutano ma pure confondono la gente e la gente si sente spaesata perché veramente perde perdono la conoscenza perdono cioè non si rendono conto che cos'è dunque perché si fa la purificazione come mai si fa purificazione che tipo di purificazioni si fanno perché da che cosa si purifica che tipo di negatività può essere addosso sono miliardi miliardi e ogni caso è diverso di ognuno di voi però io per fare una cosa generale ho dato già ho pubblicato alcuni riti su youtube per chi vuole aiutarsi da solo con delle purificazioni e sono purificazioni quelli funzionanti funzionano perché ci sono tantissimi feedback che le persone sono rientrati e comunque dicono che l'effetto c'è però vi devo dire che l'effetto anche quelli che avevo pubblicato nel youtube e non c'è ancora tre mesi ok vera vero effetto dopo le purificazioni non succede giorno dopo io vi voglio un attimino mettere le cose in chiare se vi dirò le cose perché le cose stanno proprio così non perché uno vuole vendervi la purificazione fatta da me non mi interessa anzi chi ci ha lavorato ho sempre spinto la gente di fare purificazioni da soli perché così voi potete a costruire la vostra forza e poco alla volta capire quale purificazione adatta a voi io infatti vorrei darvi sempre più 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 e più purificazioni perché le energie sono diverse per ogni persona può essere diversa purificazione per chi va bene lavorare con fuoco per chi lavorare con il sale per chi con l'acqua sono tanti e vedrete che vi darò piano piano vi registrerò solo che siete diventati veramente tanti e io oltre appuntamenti oltre i consulti ritualistica e anche rispondere solo ai vostri messaggi sto diventando veramente impegnata come avete notato sono anche meno presente nel social perché non mi basta il tempo per questo vi voglio anche chiedere di non scrivermi solamente per i stupidaggini ad esempio io sono contenta di vedervi contenta che voi mi salutate però risparmiate anche quel vedete che io faccio unico post di buongiorno la mattina sul facebook e sarà quello non mi scrivete perché io ho pubblicato il mio numero o sul privato sul facebook tutti quanti buongiorno perché questo qua mi fa allontanare i messaggi con le persone che lavoro infatti prima che mi sono scordata la signora di stasera che aveva appuntamento a 22 e mezzo per la per il consulto se faccia avanti mi scriva perché io non riesco a trovare il nostro chat non riesco a trovare dai messaggi che mi arrivano ogni mattina io mi alzo io ho da 300 400 i più messaggi veramente il chat vanno sotto io ho provato di cercare sicuramente la memorizzata ma come il suo nome è molto comune e quindi mi sono comparsi 50 dei stessi nomi ero molto impegnata sicuramente adesso quando tornerò cercherò però se faccia avanti se vede questo video vede questa diretta di stasera per favore se faccia avanti che così io potrò prima a contattarla perché non lo so veramente a chi contattare e anche tutti quanti che hanno con me fatto l'appuntamento del consulto se vedete verso quel ora mandatemi il messaggio così vostro messaggio risale sopra io potrò vedere che siete voi perché veramente siete diventati tantissimi e io sto parlando sto parlando ma mi serve comunque una persona che mi aiuta a gestire la situazione con i messaggi e infatti adesso questi giorni devo dedicare mettere un giorno dove non prenderò appuntamenti voglio dedicare un giorno per sistemare la situazione prenderò una persona ovviamente a pagamento le farò una gli darò uno stipendio e questa persona se ne occuperà solamente dei messaggi ok dunque torniamo alla purificazione guardate come chiacchierano questi torniamo a questo alla purificazione noi abbiamo diversi tipi di purificazione allora quelli che sono nel youtube sono fatti apposta per voi non seguono le lunazioni perché le persone e mi domandano oltre che c'è sul video rifanno mi domandano ma devo seguire non devo seguire allora guardate la purificazione quella che ho pubblicata nel youtube sono per tutti di quelle che sono stati già pubblicati se volete un effetto più forte se voi sentite che voi non avete propria forza abbastanza costruita aspettate la calante e fatte con la calante chi non può aspettare perché magari alla fretta ai problemi se le vuole elevare fateli fateli e buonasera angelica la richiamo più tardi appena finisco la diretta perché visto che lei mi ha chiamata tante volte io non sono riuscita a rispondere che fino all'ultimo momento ero con le persone comunque se volete avere un effetto più forte della purificazione ovviamente fatela con la calante ok quelle purificazioni che faccio io sono diversi sono purificazioni abbastanza sono più aggressive perché se lavora con altre faccio ritualistica che usano i pratici ovviamente voi chi non è pratica la gente semplice questi purificazioni non potete fare perché comunque sia pericoloso sono purificazioni da professionalisti qual è la differenza la differenza finale non c'è vi dico come stanno le cose vedete parlo contro miei interessi non c'è la differenza la differenza quello che fate voi che magari dovete aspettare l'effetto più a lungo ok perché dandovi lavoro con le forze meno feroci ok magari dovrete fare più volte la purificazione ok più volte dovete lavorare di più dovete spendere più tempo però magari il risultato arriva un pochino più là con le purificazioni che faccio io sono molto più feroci come le forze più forti più pesanti possono essere diversi ok e ci sono tante ci si lavora con con le forze demoniche dipende allora lì sono la persona che percepisce questa purificazione è più pesante ok effetto più veloce riguardo effetti quando vi dicono che subito dopo la purificazione come 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 con la magia di bacchetta magica ok ci si fa subito c'è l'effetto le prendono un giro o vi prendono un giro o non sanno o no questi sono pratici ok non stanno praticando mi stanno prendendo soltanto i soldi e basta la purificazione qualsiasi cosa ma soprattutto nella magia purificazione richiede il tempo è il duro lavoro questo non sono delle magie ok con la bacchetta magica che oggi è arrivato così domani siete purificati è tutto passato vi spiego come funziona allora intanto intanto l'effetto comincia a essere da zero a tre mesi ok devono passare tre mesi per questo io dico quelle purificazioni che sono stati messi sul youtube e se qualcuno ha fatto ci sono dei 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 passaggi ok tipo dei etapi passaggi di quella purificazione quale adesso vi spiegherò come funzionerà e voi vedrete che vi riconoscerete sono fidata fin da subito grazie angelica comunque guardate funziona così voi fatta la purificazione dovete aspettare giorno 2 ci sono le persone che sentono subito mal di testa mal di pancia a qualcuno gli partano visto quando voi chiudete quando avete carie dopo dentista ve ripulisce e mette come si dice in italiano quando infila copri il dente per non rovinare dente cadono queste infilature cioè se rovinano i denti cade il dente perché succede tutto questo perché le persone si sentono male adesso vi spiegherò voi sentite tanti dolori perché noi ognuno essere vivente anche gli animali è ma soprattutto le persone ok noi abbiamo i corpi sottili tutti questi corpi sottili sono coperti come se forse stanno sotto la una una cupola ok come un uovo un cuoco quando una persona sana ok questo uovo è completamente completamente intero senza strappi per questo io dico quando fate delle collate quando si vede che ci sono delle strappi su sui borghi delle collate perché la collata con comprende completamente fa l'impronta dei vostri corpi sottili della vostra ecco della vostra aura ok dicono anche con questa parola in italiano nella vostra aura e quando vedete che è molto strappata cosa significa questo significa che voi colpiti colpiti da un qualcosa e quando siete colpiti quando avete strappi voi perdete la vostra energia vitale la perdita può succedere in vari modi adesso arriveremo a questo una persona vive normalmente ok può avere dei dispiaceri può avere dei litigi può avere una semplice influenza tutte queste sono tutte le cose negative ok che uno accumula ok e questa negatività se accumula dentro i corpi sottili di una persona però il nostro corpo fisico è creato anche quello sottile è creato in una maniera la natura proprio creata che se ripulifica sa purifica da sola con il tempo ok però qualche volta succedono le cose un pochino più pesanti sulla nostra vita magari dispiacere più pesanti licigi pesanti aspettate un attimo che ci passano i bambini e quindi non si sente allora queste cose qua quando succedono tendono di colpirvi di fare strappo di questa aura un pochino più notevole ok quando succede queste sono le cose naturali parlo dopo parleremo delle influenze da fuori ok e questi strappi quando ci sono questi strappi questi buchi questi tipo ecco proprio strappi come si vedono nella cera ok loro perdono la vostra energia vitale è pericoloso perché quando voi perdete la vostra energia vitale ok voi vi sentite deboli stanchi non avete energia non avete voglia di fare niente arriva la depressione perché perché la persona energeticamente è colpita guardate non sto parlando solamente le favole questa è la scienza esiste giorno oggi una scienza che si chiama bioenergia ci sono dei tutti i propri università che studiano le accademie che studiano queste cose e sono scientificamente approvate non sono le cose da è fisica è chimica ok anche voi stesse potete percepire l'energia che voi che voi potete produrre quindi quando succedono queste cose che voi perdete la vostra energia vitale voi vi indebolite ok però passando con il tempo come il vostro corpo quando viene ferito quando voi vi tagliate ok corpo si rimargina anche i vostri corpi sottili che sono sette in tutto ok loro si riescono a rimarginare con il tempo quando invece succedono i problemi più pesanti ad esempio uno stress molto pesante perdita di qualche caro possono essere tantissime adesso non voglio elencare tutto quanto ok questi strappi sono molto più profondi ok e quindi più profondo il dolore di una persona più energia vitale voi perdete ma il problema è un altro quando voi perdete energia vitale quando c'è questo strappo si crea un vuoto ma non esiste un vuoto nella vostra aura perché viene riempito dall'energia che voi lo prendiamo dall'universo ok e che cosa noi abbiamo intorno noi siamo noi viviamo in tre dimensioni ok intorno noi ci sono tantissimi mondi paralleli all'astrale non pensate che noi viviamo gli astrali chissà dove no è astrali è qui è sopra è il mondo parallelo del nostro ok per questo noi quando facciamo i veggenti o quelli che usano le persone che possono vedere le entità ok possono vedere perché questo mondo è proprio qua parallele e dal mondo astrale noi come abbiamo il corpo fisico e loro non hanno più noi siamo per loro il cibo perché perché noi a noi produciamo energia il nostro corpo fisico produce energia quale è il cibo per queste entità astrali ci sono miliardi di queste entità ok sono chiamati larve sono chiamate parasiti astrali sono diversi anche questa è una cosa naturale non è una cosa che qualcuno mi ha fatto qualcosa e voi praticamente e voi vi succede questo questo ancora vi parlo senza influenza magica ma sulle cose normali naturali si ha dei dispiaceri umani e anche su sulla influenza astrale sulle noi sulle entità sulle noi ok possono essere anche questo che voi andate il cimitero magari per visitare i vostri cari che magari non vi comportate nella maniera o le persone con questi strappi soprattutto quando succedono i funerali vanno ogni tanto tornano al cimitero prime volte molto spesso ok e ci sono tantissimi anime che non sono ancora in pace ok che stanno lì che voi li potete portare a casa ma sapete quante volte succede infatti tempo che adesso che vi sto parlando di questo perché da tanto tempo che pensavo di dirvi ma mi scordo sempre quando voi andate il cimitero ok per visitare per qualsiasi cosa dopo il funerale o dopo soltanto una visita non entrate subito in casa cercate di entrare o sul negozio da qualche parte perché queste entità rimangono sui muri chiusi ok quando c'è un locale loro rimangono lì ma se voi andate direttamente a casa lo portarete a casa ok loro si nutrono perché quando siete feriti loro si nutrono diventano i parasiti addosso a voi e si nutrono della vostra energia ok e anche questi qua anime dei defunti loro quelle che non sono in pace quelle che non sono ancora andati via anche loro hanno bisogno di energia per questo voi quando andate nei cimiteri accendete le candele ok le preghiere sulle religioni perché perché la religione comunque vi dice che dovete pregare perché pregando voi tempo che dedicate voi date l'energia ok e ci sono queste entità che sono anime dei defunti che loro comunque anche loro hanno bisogno di energia e ci si possono come sanguessuga attaccarsi a voi ci sono rituali interi questa e si chiama necromagia quando apposta si va al cimitero si prende un'anima che non è in pace o da poco per questo ci si lavora con le tombe fresche e si spedisce con un programma con certo rituale addosso del nemico questa anima defunta che deve stare fino a tutto il tempo e succhiare le energie quando vengono succhiate queste energie sia le anime dei defunti o delle larve semplicemente astrali una persona cosa succede gli si bloccano le strade ma perché perché la persona non ha più energie di agire non ha energie di lavorare non ha energie di creare perché diventa completamente sfinita ok possono arrivare tanti problemi possono ci sono le entità che creano confusioni queste confusioni portano a fare alle persone fare le cose sbagliate le persone possono avere problemi con la giustizia problemi con la salute problemi finanziari ecco perché queste larue e queste entità dei defunti vanno ogni tanto purificate perché non perché siete avete fatto qualcosa e qualcuno mi fa è una cosa naturale è la ruota della vita ok succede come vedete c'è la catena della vita nella natura fisica quando voi studiate ok quando studiate voi la natura evoluzione di darwin è tutto collegato ok anche questa cosa di darwin io però lui ci ha incluso nella sua scienza però io non appoggio tanto non per niente non appoggio però comunque va bene comunque c'è la catena dei dei animali che uno mangia l'altro è la stessa cosa anche con le energie ok noi siamo un cibo per tantissime entità che non hanno più il corpo quindi loro si attaccano a voi per nutrirsi ok più li nutrite più loro sono più forti e più difficile di toglierli più tempo non vi purificate più difficile di purificarvi ok perché dicono a questa fattura è vecchia oppure questa maledizione maledizione che cosa maledizione è sempre sono dei programmi che voi mettete perché le nostre parole sono sono delle vibrazioni ok e quando uno maledisce sono hanno acquisito ormai sono diventati di egregore entità sono maledizione è una entità che voi mandate verso una persona ok che questa entità ci si nutre della persona qualche volta vecchie maledizioni sono più pesanti delle fatture fatti da poco oppure ci sono maledizioni quelle che si tramandano nel sangue magari la nonna ha fatto qualcosa è stata maledetta e tutti i figli nipote bisnipote si tramandano perché perché è stata fatta maturata più vecchia è più difficile a togliere ok quindi ogni caso è diverso ogni caso è a parte le purificazioni si fanno non di solito non si fa una purificazione e basta io quando lavoro con le persone persone che si sono rivolte da me ok io dico vedo che qualcosa state scrivendo adesso quando ho finito di parlare tornerò alle domande e vi rispondo ok se no dopo non vi dirò scordo di dire quello che dovevo dire ma sono scritta qualcosa ma tanto come sempre non sto non sto seguendo voi scrivete se volete e dopo io ritorno e guarderò le domande stavo dicendo per questo quando le persone si rivolgono a me per la purificazione io cosa dico di solito allora facciamo la purificazione aspettiamo un pochino dopo vi riguardo voglio vedere a che livello voi siete diventati se il risultato c'è andiamo avanti così lasciamo stare come stanno vuol dire che le forze lavorano se il risultato non c'è io rifaccio la purificazione io non lascio mai le persone a metà strada per questo vi dico scrivetemi sempre quello che vi sta succedendo scrivetevi sempre come vi sentite allora ci sono le persone che sentono e maggior parte delle persone sentono quando si fa purificazione ci sono le persone che non sentono anche questo è vero però intendo subito proprio primi giorni perché il processo dura da quando pratico comincia a lavorare fino tre mesi di tempo ok come funziona allora quando voi siete addosso come una tartaruga coperti da questa negatività e quando siete coperti voi la energia vostra quella vitale a parte che queste larve succhiano la vostra energia e voi siete sfiniti ok più perdete la vostra energia o perché vi succo nelle larve o perché magari avete questi strappi nella vostra protezione ok voi già vi sentite quando uno si rivolge a un pratico vuol dire che è arrivato la frutta che si sente male ok però io vi devo dire che le persone che si rispettano di solito fanno purificazioni ogni mese per questo loro non hanno mai blocchi né con i soldi né con i rapporti le persone che si rispettano si purificano ogni calante ok i pratici si purificano ancora più spesso perché ovviamente lavorando con la gente con tutta quella negatività ha bisogno devono essere bisogno purificati più spesso anche se hanno addosso già protezioni naturali proprio dati dalla madre natura perché sono stati spediti apposta per questo mestiere e anche se si mettono addosso delle purificazioni comunque scusate delle protezioni comunque le arriva le arriva e qualche volta uno ci riesce a contaminare dunque una volta voi avete fatto la purificazione e durante la purificazione succede questo io se lavoro con voi anche voi quando voi leggete fate rituali di purificazione più leggete una evocazione ok che cosa non sono semplici parole non pensate che un testo per la bellezza perché voi state dicendo io ti sposto da me sulla cera dal cera sul sale cioè voi mettete le chiavi quelle purificazioni almeno quelle che vedo io ci sono le chiavi sono le parole che voi richiamate le entità ok quelli che si nutrono di quelle larve che voi avete addosso ok ovviamente una persona se ha delle fatture fatte apposta non ce la fa a togliere da solo per questo servono i pratici per togliere però quando una persona non ha niente riesce a queste larve tipo sanguessughe di staccare poco alla volta da se stessa primo mese secondo mese e così via così poco alla volta ci si purifica quando pratico lavora con voi leggendo facendo purificazione lui stacca da voi queste larve stacca poco alla volta e ovviamente questa larva quando comincia il rituale cominciano a essere le parole cominciano a leggersi questa larva attacca prendere dal vostro corpo perché loro già lo sanno che li stanno scacciando via ok sta tirando più possibile energia come uno scappa e prende quello che può più possibile ok come uno entra dentro una banca ci sono i soldi davanti ok cassaforte aperto mette nei sacchi più soldi possibile la stessa cosa queste larve queste entità loro cercano prendere più vostra energia possibile per loro ok per avere per dopo perché rimangono senza il cibo voi siete il cibo loro sono parasiti per questo voi sentite il dolore e mal di testa vomito vi cadono i denti perché perché queste larve vi indeboliscono ancora di più staccando portando via più energia che possono con loro ok anche se non hanno fame mangiano più possibile quindi tutti insieme se loro ma se succede che la persona piena di larve ad esempio e ogni tanto larva mangia ok in quali mangiano tutti insieme per questo voi sentite deboli per questo mal di testa e dipende dove erano ste larve una volta queste larve sono state staccate ok grazie alla pratica cosa succede le ferite quelle che sono rimaste dove loro erano attaccati vi fanno male vi fa male la schiena perché molto spesso le larve si attaccano anche la schiena le persone hanno la cervicale fa male la testa perché proprio loro si localizzano lì ok una volta sono state staccate voi per un po di giorni avrete il dolore è normale e come voi andate a fare un intervento chirurgico vi tolgono la cista e vi tolgono vi levano tutto il pus da dentro e vi farà il male giusto il posto perché i nostri corpi sottili soprattutto quello etirico e quello astrale e mentale quelli primi tricorpi loro sono molto simili al nostro corpo fisico quindi noi sentiamo e di solito queste larve stanno a quel a quel livello per questo voi sentite molto di più il dolore e questi giorni ok molto probabilmente che e che cosa però non è finita come succede quando uno pratico legge evocazione che cosa fa evoca le forze dipende dal rituale quello che fa o le forze delle elementi o le forze che lavora con cimitero e queste forze fanno una persona non si rende conto perché la persona non ha idea però dentro il vostro corpo sta succedendo una vera e propria battaglia stanno combattere queste forze che io mando verso di voi quando faccio la purificazione per questo sono molto connessa quando le persone che hanno fatto la purificazione con me infatti nei commenti possono confermare che noi sentiamo i stessi dolori quindi quelli che sente la persona che purifico io la sento infatti io per prima dico guardi signora lei adesso sente questo e mi infatti mi fa infatti lo sento questo oppure dopo un po' mi dice infatti lo sento questo perché noi siamo connessi noi siamo come la ponte siamo la ponte tra di voi ok e tra queste forze che evochiamo quindi noi mandiamo queste forze verso di voi queste forze fanno combattono con qualsiasi entità voi avete addosso e non è che dura soltanto il tempo che io faccio la purificazione ok quelle forze sono spedite e ci stanno lì finché non succede finché non mandano via tutto quello schifo io riguardo le persone dopo qualche giorno e per questo dico mandatemi la foto fresca non quella che avevate mandato prima ma fresca dopo la purificazione a passati tre quattro giorni scattate una nuova foto non mi interessa della vostra bellezza non mi interessa se siete truccati a me mi interessa io manco e vi guardo non manca analizzo io guardo quello che mi interessa a me quindi io riesco a guardare cosa è successo a quale livello la persona purificata sì io vedo che non abbastanza io vado un'altra volta quindi faccio richiamo di nuovo di queste forze le mando un'altra volta verso di voi queste forze è come il doppio doppia dose ok doppia dose di purificazione e questo dura più o meno ok da inizio fino a un mese questo combattimento quando finisce più o meno un mese la persona comincia a sentirsi diversa ok veramente cominciano a sentirsi diversa già dice sono piena di energia perché perché quando sono stati questi tolti queste larve ok il nostro compito quando facciamo purificazione di mandare via larve più di chiudere questi buchi che si sono creati da dove loro succhiavano o semplicemente crepe che voi avete provocati quando avevate dispiaceri nostro compito togliere le larve e chiudere i buchi esattamente come i dottori togliere la ciste pulire la ferita e cucire la pelle identica stessa cosa una volta sono stati purificati la vostra energia comincia a riprodursi ok rinnovarsi voi cominciate a riempire i vostri corpi energetici di tutto il coco non soltanto corpo ma tutta la vostra aura di vostra propria energia quella energia che vi serve per aprire le vostre strade questo è un periodo si chiama periodo di riconvalescenza e questo succede nel secondo e nel terzo mese il primo mese è la purificazione è quello più doloroso secondo il terzo varie convalescenza quando voi riempite di energie allora è lì voi dovete entrare con collaborazione con me come dovete attirare quello che vi serve la grego energia dei soldi perché ormai siete forti ormai siete riempiti di energia la vostra il vostro livello la vostra carica di energia è molto più più potente adesso quindi ci si può lavorare per attirare quello che vi serve potete fare apertura delle strade ma non potete fare la purificazione il giorno qualche dopo fare apertura delle strade e come vi faccio un esempio avete fatto un intervento all'appendicite ok e tre giorni dopo siete andati a pulire il giardino o piantare gli alberi capite che cosa sto dicendo è la identica c'è sempre una logica voi il pratico quando vi prende per fare la purificazione vi deve spiegare come funziona come quanto tempo ci vuole è vero ogni persona è diverso ci sono le persone che i loro cambiamenti vedono da subito perché ci sono le persone che si riprendono subito dopo la malattia e ci sono le persone che ci vuole il tempo il tempo però in generale da 0 a 3 mesi c'è questo periodo di purificazione quindi quelli video che ho messo su youtube e se le persone hanno fatto loro vero effetto ancora non ce l'hanno perché io il canale youtube aperto solamente tre mesi fa e questi video di purificazione sono stati mesi anche più tardi le persone che io ho cominciato a lavorare quelle dall'internet intendo non quelle che lavoro qua del posto hanno cominciato a lavorare con me ok loro ancora vero effetto non possono vedere anche se alcuni già mi scrivono che si sentono molto più forti che piena di energie sono quelle persone che hanno possibilità di passare periodo di riconvaliscenza molto prima è una cosa molto semplice e logica da capire riguardo le paghe quando voi rivolgete allora quando voi fate da soli io ovviamente voi lo fate e comprate il materiale e quello che spendete dopo dovete ovviamente lasciare sempre le paghe perché quelle forze che voi evocate non pensate che lavorano per voi gratis gratis non c'è niente su questo mondo niente se andate al supermercato e tutta la vostra famiglia ha fame i figli compresi e voi andate alla cassa a dire che non avete soldi sono poche che vi danno la roba gratis ok è la stessa cosa nell'universo se voi evocate le forze per farvi la purificazione voi dovete comunque fare le paghe dopo le purificazioni quando voi vi rivolgete a me ovviamente ovviamente inutile che chiacchierano che a voi vi scrivono nel privato lei chiede le paghe ma certo che chiedo le paghe io il materiale devo pagare io le paghe all'incrocio devo lasciare io il mio lavoro perché è un nostro è un lavoro io per questo non posso lavorare dall'altra parte perché non ho il tempo io mi devo dedicare completamente a questo lavoro quindi quale perché gli altri lavori devono essere pagati e questo no io mi ricordo la mia bisnonna che lei praticava ok lei faceva i lavori ma non una volta gente cosa portavano le uova le galline le portavano zucchero io mi ricordo quelle miele le portavano ok adesso tutto questo si può trovare molto bene sui supermercati facile da comprare quindi la gente soprattutto quelle che stanno lontano oppure quelle che vengono ovviamente pagano fanno le paghe con i soldi una volta voi avete pagato a me per la purificazione io vi seguo tutto il tempo ok non è che mi dovete ripagare ogni volta per ricontrollarvi tutti questo tempo io vi seguo finché non porto che la completa risultato quello che voglio io e le persone possono confermare c'erano le persone che ho fatto la purificazione loro non si hanno fatto io vado a riscrivere solo in questo modo vado a scrivere io da sola perché io non vado mai a cercare le persone o invitare sui gruppi miei o sul profilo sul canale youtube tutti questi qua che siete venuti siete venuti tutti da soli vero io non vado mai a proporre il lavoro mai ma quando io lavoro già con voi quando io vi ho accettato io ovviamente chiedo signora come sta ok mi mandi la foto quando vedo che c'è qualcosa che non va io dico mi serve il permesso suo signora perché qua devo rifare il lavoro e mi è successo un po di volte perché ovviamente si vede che questo rito che ho usato perché non parto subito in terza parto con riti più basse perché la energia delle persone qualche volta molto debole loro sono sfiniti hanno a dei problemi se vado con la purificazione pesante posso fargli del male ok quindi parto preferisco di fare partire dalla cosa più più deboli e dopo sempre aumentare la potenza se c'è bisogno successo con le persone però questa è la pratica queste cose lo sanno chi pratica chi non pratica vi può dire lei prende soldi per le paghe parlano quelli che non praticano perché è impossibile perché tu non puoi comprare il materiale andare in croce spendere il tempo e non avere nessun tipo di ritorno è impossibile l'energia comunque deve girare ok anche il tempo che spendo soltanto per lavorare per stare dentro i boschi vado nel bosco e faccio le purificazioni aspendo che si spegni e finiscono delle candele non è che posso stare la notte di lì facendo cosa chi mi fa fare giusto ovviamente devo ricavare un qualcosa e questo è giusto mettetevi bene il testa chi ritiene che non è giusto andate da quelle persone che faranno gratis ok quello che vi farà gratis o non vi farà il lavoro e non avrete risultato oppure vi farà gratis però attenzione c'erano quando la mia nonna mi raccontava c'erano le donne che quando voi andavate lì e chiedevate qualche cosa lei ovviamente ve lo faceva ma non era gratis anche se lei vi diceva gratis loro comunque prendono in cambio o la vostra felicità o la vostra giovinezza o la vostra salute perché quelle donne che vivono nelle campagne che hanno tutto hanno le patate sull'orto hanno il prezzemolo cipolla loro non hanno bisogno di soldi ok loro hanno bisogno della vostra energia giovane quindi loro lo sanno come fare vi dicono che gratis ma non non è mai gratis e quando un pratico onestamente vi dice guarda questo rito il prezzo è questo e non mi potete dire che prezzi quelli che ha messo sono più che onesti più che onesti e voi chi si è rivolto ha sempre detto così perché calcolando io ho detto una volta una signora signora guardi gli serve questo 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 lei può fare da solo lei mi ha richiamato e mi fa ma io spendo un sacco per materiale devo spendere il tempo dopo magari non manche mi viene preferisco che fa lei ma lei che cosa pensava materiale costa costa soprattutto quando tu vuoi effetto vai comprare la cera d'api vai a comprare le candele vai comprare tutto quello che ti serve per rito dopo comunque non ti danno il gratis quindi quelli che vi dicono che le lavori se fanno gratis lo faccio anche gratis ma lo so a chi fare queste sono delle beneficenze che lo faccio le persone che si trovano male persone che hanno i figli malati io lo so a chi fare il gratis ok quindi che questo che sia chiaro una volta siete rivolte a me una volta vi sto facendo il lavoro non si prendono i soldi due volte quando vi dicono eh lo sa io gli ho fatto purificazione però ho trovato che c'è anche l'altra cosa perché nel trattempo che lei si purificava gli hanno fatto l'altra fattura questi sono dei ciarlatani lavoro si paga una volta e basta e il pratico deve portarvi fino alla fine finché non c'è risultato se vi dicono diversamente vi prendono un giro altro che cosa ecco e questo che volevo dire perché mi è successo anche che ho fatto un purificazione quando una ragazza e lei mi ha scritto che comunque non ma passati tre quattro giorni ma mettiamo una settimana non più che comunque non vede successo con gli uomini ragazzi la purificazione non è attirare gli uomini purificazione è togliere lo schifo da addosso da voi la purificazione è per farvi un esempio come voi fate la doccia voi quando vi fate la doccia ok siete puliti dopo vi dovete restire dopo vi dovete truccare dovete uscire giusto è quella stessa cosa quando si fa purificazione una volta è fatta ha funzionato voi siete passati periodo di riconvalescenza si può lavorare su quello che volete quando siete pieni di energia non avete blocchi aprire le strade o ci si può fare richiamare l'amore ci si può fare richiamare dell'energia e del denaro lì si agisce di lì sta a voi sta non sono io con la purificazione che andrò a tirarvi gli uomini per voi questo che sia chiaro chi pensa che io con la purificazione vado a tirarvi gli uomini non venite da me perché io non sono una che vi dice una cosa per l'altra io vi vado a togliere lo schifo da addosso che voi siete accumulati con gli anni più tempo non vi purificate più difficile purificare quando ci sono purificazioni di coppia cosa significa quando c'è un rapporto e ci sono dei blocchi in mezzo alle persone quali blocchi possono essere possono essere i blocchi possa essere un'altra persona in mezzo può essere i blocchi di litigio può essere familiari possono essere la lontananza possono essere tantissimi blocchi in mezzo alle persone quando se le fanno purificazione di coppia ok ci si elevano questi blocchi perché ci si fa non soltanto una sera ci si fanno da tre sei nove dodici sere ogni sera si leggono certe orazioni diversi sul sulle sul due persone ci si è un lavoro duro ok quello toglie il blocchi ok non è che un legamento toglie i blocchi se tolgono i blocchi dei due innamorati che hanno litigato se tolgono i blocchi che stanno a lontananza ma non è che uno sta sposato e tu sei sposata io faccio purificazione voi lasciate cioè tutti quanti spariscono e vi metto insieme no non venite da me perché non succede questo succede solamente se tutte due persone o almeno una persona quella che ordina purificazione dice guarda io ho il mio ragazzo ho il mio marito che si è allontanato per una problema o l'altra io vorrei di ritornare perché eravamo felici eravamo innamorati e l'amore non sparisce mai sentimento c'è sempre allora lì ci si fa purificazione e lì c'è l'effetto però non pensate se vi faccio c'era anche una signora che ha fatto la furba ok si è rivolta a me ha voluto fare purificazione di coppia lei sposata con 20 figli e lui è sposato con 30 figli sto scherzando con il numero di figli però pensava che io però ovviamente un pratico prima di fare purificazione che cosa fa fa una stesa per vedere che cosa sta succedendo e te lo fanno vedere subito dove è il problema ho visto subito che di lì c'erano i matrimoni da tutte e due parti signora io la purificazione non gliela faccio mi dia il suo conto indietro gli rispedisco i soldi perché io non prendo questo lavoro non prendo perché è impossibile questa è purificazione della coppia quando i sentimenti ci sono o sono adesso sono un attimino bloccati per vari motivi ma non per separare le famiglie che la cosa sia chiara io credo credo che ho detto più o meno tutto adesso risponderò alle domande fatemi ricontrare perché io mi sono appuntata a percorsi quando quando si fa la purificazione ok dopo c'è il periodo di riconvalescenza dopo tutto questo periodo di riconvalescenza io tengo le persone in contatto ovviamente perché voglio sapere quello che succede ok se devo intervenire più o meno dopo la fine quando già io vedo il risultato ci si mette una protezione e anche qui ci sono due scelte voi potete benissimo mettere la protezione da soli perché non credete quelle che vi dicono che protezione per forza deve essere fatta da un mago no potete fare anche da soli una volta siete a posto voi potete proteggervi da soli e potete rivolgersi a pratico questo anche questo qua è vero io penso che ha detto tutto a questo non l'ho detto quando ci si fa purificazione non è necessariamente che voi sentite dolori si necessariamente sentite chi sente prima chi sente dopo i pochissimi percentuali non sentono succede anche questo che non l'ho detto infatti quando si fa purificazione che cosa purificazione togliere dalla vostra vita negatività giusto a volte noi non sospettiamo che quella persona che magari sta tanto noi può essere una negatività ok voi cominciate a perdere gli amici che credevate che sono amici spariscono di nulla non si fanno più vivi non contattano perché perché queste forze ritengono che queste persone sono negatività nella vostra vita ok e praticamente li allontanano queste persone si allontanano e anche questo fa parte della purificazione a me mi è successo una signora mi ha detto io dopo purificazione mi è successo che avevo queste amiche ma erano tanto bravi uscivamo dopo che ha fatto la purificazione sono sparite perché le forze hanno calcolato che queste due amiche suoi non erano bene erano le persone che le portavano dispiacere infatti lei diceva sì perché mi dicevano le cose perché mi offendevano molto spesso infatti è successo questo l'hanno tolti l'hanno tolti da circolazione quindi di purificazione fa parte anche questo penso che ha detto tutto perché sto riguardando ho fatto un piano non ho seguito niente proprio le purificazioni si possono fare in diversi modi sul fantom sulla fotografia ci si fanno anche sulla data di nascita anche che quelle mi piacciono meno però comunque si fanno sul quel c'erano le persone che mi hanno detto che ho io appena parlato con lei mi sento subito meglio e ci credo perché quando voi avete addosso perché chi si rivolge a noi si rivolgono quelle persone che hanno dei problemi ok problemi nella vita ok rivolgendosi a noi io avevo già spiegato che noi non siamo mai per questo io pretendo quando dico quando mi rivolgete allora finché sia sui reti sociali il generale a me non mi interessa ma quando vi rivolgete a me proprio come a pratico per farvi un lavoro io pretendo che voi vi rivolgete dandomi del lei perché non sono sola sono le forze che stanno dietro le mie spalle non io sono un ponte il suo strumento tra quale lavorano loro ok se le forze hanno deciso di aiutarvi vi porteranno dalle persone chi pratica sono quelli veri pratici se le forze vogliono punire una persona porteranno da scarlattani fanno pure perdere i soldi ok per questo quando voi rivolgete a me queste forze quando già solamente parlando ok se voi avete addosso negatività questa negatività percepisce ok percepisce le forze quelli che sono con me parlando con me attraverso vibrazione della mia voce attraverso le mie parole questa negatività che credetemi sono delle entità sono essere intelligenti sono senza corpo ma sono essere intelligenti loro come se forse si azzittiscono vi danno meno ansia dopo purificazione molto spesso persone diventano violenti ok nervosi perché perché queste forze loro influiscono queste larve loro influiscono quando c'è proprio questo combattimento durante purificazione anche sul sistema nervoso la persona diventa nervosa ok violenta ma passa passa perché perché queste larve ci sono larve che si nutrono di negatività le persone che sono sempre pessimiste negative ok loro si nutrono di negatività più persona negativa nervosa più forti queste larve sono si chiamano des nella mia lingua ok sono dei demoni del basso astrale non quelli demoni importanti ok ma i demoni di basso astrale che si nutrono di negatività per questo le persone quando sono diventano violente negative vuol dire che loro avevano addosso tanto di questi demoni che si nutrono di negatività ok anche questo succede dopo la purificazione quando si fanno fa influenza magica quando ci si fanno le fatture qualcuno lo fa apposta lì è veramente difficile di togliere anche per i pratici allora per questo noi andiamo a lavorare tramite egregore pesante tipo egregore dei cimiteri perché perché questa energia morta non è morta perché energia non può essere morta energia è una cosa che si muove però per farvi capire energia della morte riesce eliminare come fare male a una persona può anche eliminare delle entità o il male o la malattia ok per questo noi lavoriamo quando abbiamo bisogno che una persona ha le fatture dipende come sono fatti così eliminiamo ad esempio a me è capitato sulla mia pratica che una signora sono di rivolta a me e c'aveva praticamente questa fattura fattura che si tramandava dalla madre e figlia sulla lingua sulla lingua di provenienza sanguinea ok perché nella loro sentite com'è andata nella loro famiglia c'era una nonna che praticava ok e si chiama il patto ok patto con satana ma si chiama e basta così che non è che fa patto con satana lei faceva che lei si nutriva lei viveva molto lungo questa nonna lei si nutriva delle energie e delle forze delle sue nipote figli eccetera ok lei viveva e quando è morta non ha non è stata tolta quindi questi figli si trasportavano questa maledizione addosso comunque perdevano queste questa energia vitale quindi per togliere una cosa del genere ovviamente come si fa una persona che già defunta che aveva fatto questo usava questo patto questo rituale durante la vita non c'è più ovviamente si fa tramite il cimitero ovviamente una persona che non pratica sti pratiche non li può fare c'è ogni caso è separato per questo una un pratico che esperto prima fa la diagnostica e dopo ovviamente subentra con le purificazioni ogni purificazione è diversa per ogni persona che fa il pratico è diversa ok io credo che ho detto quello che potevo dire e adesso voglio vedere le vostre domande allora durante il ciclo se può reggere il ciclo allora guardatemi una cosa se durante il ciclo ci si possono fare i riti io non vi consiglio fare durante il ciclo qualsiasi cosa qualsiasi perché quando voi cominciate a fare qualsiasi operazione magica ok cosa succede voi entrate voi vi connettete solamente con le parole anche quelli che non sono esperti connettete voi mettete sulle vibrazioni ok del dei delle entità dei spiriti voi vi connettete praticamente con il astrale ok è pericolosissimo perché quando avete il ciclo nell'astrale ci sono a proposito quelle larve che io ho parlato voi siete come un pezzo di carne dentro al mare pieno di squali quindi vi si butteranno addosso tante di quelle entità perché sentiranno e non saranno entità positive assolutamente perché loro si nutrono loro si nutrono del odore ok noi che bevono il sangue perché ci sono visto ci sono rituali fatti sul sangue loro si nutrono dell'odore delle molecole del sangue quindi siete una lesca non vi consiglio come fa una persona a capire se ha un dono per fare quello che fa tu o anche solo la lettura delle carte a voi vi è sempre questa adesso una domanda da fare adesso parliamo delle purificazioni adesso stiamo parlando delle purificazioni grazia quindi non c'entra niente questa domanda come si fa capire che ha un dono capisci e basta non c'è un schema non c'è un metodo una che ha un dono lo sa dalla nascita lo sa da piccola perché vede queste entità cresce percepisce comunica compaiono davanti le cose che molte volte vi ho ripreso pure sul video pubblicato quindi non ha dubbi chi mi fa le domande se mi puoi guardare se ho le capacità magiche non ce l'hanno perché chi ce l'ha non ha i dubbi ok sto leggendo delle domande si chiama baratto non so che cosa baratto la paga è uno scambio di energia oggi si paga chi mancherebbe che non la pagassero a mettere il suo lavoro tempo energia e materiale buonasera grande maestro spiegazione perfetta molto brava bravissima che sono venuta solo nel gruppo grazie a lei energia deve girare deve ritornare all'universo l'energia deve girare perché io spendo energia e in più è un lavoro questo qua è il nostro lavoro dai secoli i secoli quando uno si rivolgeva a un pratico non andava mai con le mani vuote andate sul qualsiasi film andate sul qualsiasi cartone c'era sempre una paga o paga materiale gli portavano oppure anche negli cartoni o gli riprendevano la voce come nel caso della serenetta vero o no c'era sempre una paga perché noi siamo stati creati per questo per aiutare la gente ok e questo è il lavoro poi un'altra cosa uno stamattina mi ha scritto che veramente non ce la faccio più mi ha scritto come mai non hai sentimenti allora e se è messo io parlo con l'universo ha scritto tutta la cavolate sotto allora voi potete parlare con l'universo quanto vi pare potete meditare è tutta un'altra storia quello che faccio io o quelli che pratici come praticano come me quando c'è il flusso della gente parlare con l'universo meditare accendere le candele ascoltare le musiche studiare la magia è amore per la magia essere nati e cercare di scappare sapete quante volte ho provato di scappare da questa strada è impossibile ti prendono per orecchi e ti portano indietro perché ti fanno ti puniscono ti fanno succedere le cose con perdite dei soldi o con le perdite pesante che tu per forza devi ritornare non c'è via d'uscita le persone pensano che è tanto facile a lavorare a fare questa vita qui non è così perché tu sei circondata dalla mattina alla sera delle forze molto feroci e quando tu devi lavorare per noi che cosa serviamo? che cosa serviamo? molte volte che ci si rivolgono a noi a tirare la fortuna a tirare felicità si rivolgono quando sono arrivati alla frutta giusto? cioè non serviamo per purificare la gente per togliere il male quindi per fare questo non è che possiamo andare alle forze della luce e purificarvi sono le cavolate cavolate vuoi il male? si leva con il male non esiste che tu vai a levare il male con il bene questo è quello che vi raccontano le cavolate che non sanno niente del lavoro se voi volete togliere una fattura fatta con le forze demoniiche dovete rivolgervi alle forze demoniiche ancora più pesanti di togliere quella fattura quindi lavorando con queste entità così aggressive così pesanti noi diventiamo come loro se noi non saremo come loro e con ogni anno è sempre peggio se noi non saremo come loro non ce la facciamo sopravvivere fatemi vedere una strega o di un film o di un cartone perché nelle cartoni e nel film c'è sempre dicono la verità tratta dalla vita reale fatemi vedere dolci streghe che fanno che vi fanno miei cari, miei amati, adorati non esistono non esistono perché loro comunque lavorano con delle forze talmente ferroci che diventano come loro la loro vibrazione la loro energia con anni più vecchia strega la strega non invecchia la strega ogni anno non diventa più vecchia diventa più esperta ogni anno più pericolosa più vecchia è più pericolosa è quindi di dolcezza di tutte queste cose qua i sentimenti noi non possiamo avere se no a noi ci mangiano io quante volte avevo detto quando voi fate anche il rito di ritorno quelli che hanno fatto male e se vedrete le persone di farsi male non dovete dispiacere perché dopo dopo vi torna a voi i sentimenti in questo mondo in questo settore impossibile se voi siete sensibili non mettete il piede in questo mondo vi mangeranno sparite come la bolla di sapone sopra l'acqua che costa della purificazione onestissimo anzi a mio direi se considera che il materiale è la paga credo che sia un regalo quello che ci fa onestissimo perché io lo avevo detto se voi andate prima di fare qualsiasi cosa fate un calcolo non è che dovete fidare quello che vi dico io allora io vedo il rituale fate il calcolo di quello che dovete comprare il tempo che dovete spendere i paghi che dovete portare dopo ditemi se è onesto o no però prima di parlare prima di parlare di quelli che dicono che tocca fare gratis allora andate lì io non cerco a nessuno se voi troverete le persone che faranno purificazioni gratis sono contenta a date per favore liberatemi la mia anima datemi datemi un giorno di riposo ok comunque i commenti vedo che non sono tanto se dopo stasera a riguardo se c'è qualcosa vi risponderò anche con l'iscritto dopo caricherò anche sul youtube e e ovviamente ci sarà anche di lì perché le persone devono essere devono capire vedo che comunque sono stessi stessi commenti non ci sono le domande va bene vi saluto tutti vado la persona che devo fare stasera alle 10 in mezza se mi senta se faccia avanti perché non la trovo più non lo so dove il chat poi ci sono due telefoni io di whatsapp profili di facebook io non la trovo che la persona o mi chiami o qualcosa perché io non so come fare dopo non vuole essere colpevole che non l'ho fatto non l'ho fatto il consulto come si può capire se una persona ha i blocchi di tutti i tipi da quando è nata no come si fa capire che una persona ha dei blocchi è semplicissimo se avevate tutto avevate un lavoro avevate una famiglia avevate un successo non lo so quello che una persona normale umana può avere e dopo a certo punto vi si è bloccato tutto avete perso il lavoro i soldi non entrano più con il marito non andate d'accordo ci siete separati i figli vi trattano male tante queste cose quando succedono a una persona oppure non riuscite più guadagnare i soldi o guadagnate i soldi i soldi se ne vanno non c'è non c'è nessun aiuto di quei soldi allora questo significa sono i blocchi blocchi e quelli blocchi succedono e non è una cosa naturale perché se voi non vi purificate guardate anche stessi stessi religioni quando vi fanno purificarsi almeno due volte all'anno prima di Pasqua prima del Natale è vero quando voi andate a confessarvi ok anche loro ci mettono ecco allora qualcosa c'è giusto purificazione ci deve stare è come di non lavarsi se voi non vi lavate non vi si avvicina a nessuno puzzate la stessa cosa qua se voi non vi purificate le energie quelle che vi portano il benessere non si avvicinano voi siete isolati come dentro un bunker quando voi entrate dentro il supermercato che è praticamente un bunker sono sempre quelli sotto terra non prende la linea il telefono è la stessa cosa qui quando voi avete un telefono wifi ok e andate da qualche altra parte allontanatevi non prende perché non c'è wifi funziona funziona anche se non vedete la stessa cosa le energie questo mondo ha creato delle energie è una catena una rete di energie che sono comunicano connessi tra di loro ma se voi avete blocchi e come un'aria calda è pesante dentro la vostra stanza quando voi avete l'aria calda dove l'aria calda va si accumula è fisica si accumula tutto sotto il soffitto giusto quando il caso con i soffitti alti le camere sempre freddi perché perché tutta l'aria calda va sopra e voi sentite sotto isolati non avete caldo la stessa cosa qua quando voi avete questi blocchi quando voi avete negatività questa negatività vi copre fa un involcro vi copre che le energie quelle del bene che vi servono non riescono a passare quindi è normale che non attirate ma una volta avete tolto tutto quel blocco tutta quella crosta delle larve di negatività quando rifate la vostra energia che è una cosa naturale riuscirete a tirare tutto quello che serve ok ringraziare sono allora adesso quando voi spendete per noi tutto questo tempo e tutta l'energia come ringraziare vostri ringraziamenti per me è carica energia che mi fa andare avanti perché ringraziare essere grati per le persone ok quando persone sono grati anche questo per me è un'energia quella che mi fa andare avanti noi viviamo delle energie questa per me è paga ecco lei Eka è sempre molto lei è una persona che ringrazia sempre e vedrà che questa cosa qui non è altro che bene tra l'altro il nome Eka che proviene delle persone che vengono dal Caucaso del culto di Eccate è molto famoso Eka proviene dal nome di Eccate quindi lei ce l'ha un nome molto potente ok come ringraziare le sue forze l'avevo già spiegato ecco scrivono che sono stata chiara perfetto sono contenta Liria per donno forse l'ho detto già allora sigillo della protezione dopo tre mesi io come funziona visto come avevo fatto con le altre persone quando avevo purificato dopo ho fatto la rito della protezione generale ok però ci si possono fare anche quelli personalizzati e quelli personalizzati potete fare o voi stessi quando io vedo che siete arrivati alla fine che siete scusate che mi stanno a parlare thank you it's mine le persone passano non si fanno i cavoli sai perché ho lasciato la roba loro pensavano che qualcuno ha abbandonato e praticamente quando passano tre mesi ci si mette la protezione ok si mette la protezione e anche quella è particolare è separata è diversa per ognuno per ognuno la protezione è diversa e di quello faremo una una diretta da parte ok che anche quello io voglio che voi sapete tutto che quando vi chiederanno della protezione voglio che voi sapete tutto purificazione protezione legamenti persone che mi seguono sia pratici pratici lo sanno chi non pratico ho cominciato adesso a studiare voglio che voi sapete la spiegazione logica sul tutto non perché purificazione accendete il fumo questa e come funziona come agisce su che cosa si rivolge a chi si rivolge quali sono i postumi quali sono gli effetti i tempi io voglio che queste cose voi conoscete ok ragazzi vi saluto tutti saluto tutti devo tornare perché ho ancora le persone da ricevere e devo cercare queste persone non lo so ma anche sul quale telefono devo contattare perché ho prenotato loro hanno già pagato ma non lo so come trovarli va bene vi saluto a tutti e a presto e commenti quelli che ci saranno stasera più tardi quando cercherò di rispondere a tutti proprio con scritto ciao a tutti